Bambini, che cosa state facendo? Oh mamma, stiamo guardando Masha e Orsa alla televisione! Ah, capito! Mi raccomando, preparatevi perché i vostri amici stanno per arrivare! Oh, che bello, che bello! Non vedo l'ora! Oh sì, Peppa! Anche io! Sono troppo felice! Ci saranno tutti! Oh, che bello! E poi è una bellissima giornata fuori! Staremo benissimo in piscina! Oh, che bello, che bello, che bello! Bene, sembra che sia tutto pronto! La torta sta cuocendo e i bimbi si stanno preparando! Dunque... Oh, l'acqua nella piscina! Papà Pig! Papà Pig! Ci sei? Oh sì, mamma Pig! Sto finendo il bagnetto! Che cosa c'è? Oh, papà Pig! Devi riempire la piscina! Dai, che così si scalda! Se no, i bambini avranno freddo! Oh, sì, sì! Ho fatto, ho fatto! Adesso vado, mamma Pig! Dunque, eccoci qua la piscina! Sì, bisogna proprio riempirla! Allora, andiamo a prendere subito... Ecco qua! Riempiamo la piscina! Ecco, ho fatto! La nostra piscina è pronta! Sì, sì, sì! No! Non ci resta che aspettare tutti gli invitati! È tutto pronto, papà Pig? Sì, sì! Ho riempito la piscina! Mancano solamente gli invitati! Oh, tesoro! Hanno bussato! Andiamo a vedere chi è! Oh, buongiorno, signora coniglia! Ben arrivato! Buongiorno, Richard! George! È arrivato il tuo amico! Buongiorno, signora Pig! Oh, qualcun altro! Oh, buongiorno, signora gatto! Ma buongiorno a lei, mamma Pig! Buongiorno, Candy! E poi, dietro di me! Vai pure a giocare con loro! Oh, sì, mamma Pig! Oh, che bello, che bello! Oh, è arrivato qualcun altro! Oh, ma è Emily l'elefante, zoo e zebra! Ma ciao, ragazze! Ma i vostri genitori? Oh, non sono potuti venire! Ci hanno lasciato qui davanti! Oh, va benissimo anche così! Venite, prendete posto! Buongiorno, mamma Pecora! Ciao, Susie! La Pepe è dietro! Vai pure! Oh, sì, grazie, mamma Pig! Oh, buongiorno, Danny! Oh, buongiorno, signore cagnolino! Tutto bene? Sì, grazie, mamma Pig! Oh, prendete pure posto! Oh, ma non finiscono più di arrivare! Ehi, buongiorno! Ciao, Freddy! Oh, buongiorno, mamma Pig! Oh, bene, bene! Sono contenta che siete riuscite a venire! Prendete pure posto! Oh, e non è ancora finito! Oh, buongiorno a tutti e tre! Sono contenta che siete riusciti a venire! Più siamo, meglio è! Bene, direi che... Amici, possiamo prendere posto in piscina! Venite, seguitemi! Ehi, amici, cosa ne dite? Facciamo un salto in piscina? Oh, sì, sì, Peppa, voglio andarci! Oh, anche io, anche io non vedo l'ora! Anzi, faccio subito un tuffo! Yuhuu! Arrivo anch'io! Che bello! Anch'io, anch'io! Oh, dai, Peppa, vieni! Su! Yuhuu! Oh, sì, vengo anche io! Dai, tutti in piscina! Emily, vieni! Sto arrivando! Eccomi! Oh, sono l'ultimo! Yuhuu! Che bello! Come ci divertiamo nell'acqua! È bellissimo! Che bello, che bello, che bello! Yuhuu! Mi piace saltare nell'acqua! Oh, com'è carino! Come mi piace andare nelle piscine degli altri! Io non ce l'ho a casa! Che bello, che bello, che bello! Yuhuu! Voglio fare un altro salto! Yuhuu! Yuhuu! Oh, sì, anch'io, anch'io, Emily! Arrivo! Yuhuu! Anche io, anche io, anche io! Yuhuu! Oh, guardate come ci stanno divertendo i nostri bambini! Oh, sì! Grazie, mamma Pig, di averci invitati! Ci stiamo divertendo tantissimo! Beh, se volete potete fare anche vai un salto in piscina! Oh, no! Noi non abbiamo messo il costume! Oh, però, un bel stufo in piscina! Mi sarei divertito un sacco anch'io! Ehi, ragazzi, fate spazio! Arrivo! Yuhuu! Oh, anch'io, anch'io! Sta arrivando! Aspettatemi! Yuhuu! Oh, sì, anch'io, sta arrivando! Fate spazio! Yuhuu! Oh, ti ricordo anch'io quando ero giovane! Come mi divertivo in piscina! Ma dai, ma lei è ancora giovanissimo! Si può divertire ancora adesso! Oh, a me non è mai piaciuta l'acqua! Però ai miei figli Peppe e George piace da morire! Da quando ho preso questa piscina, sono sempre fuori in giardino a giocare! Oh, non avete idea di quanto mi faccio arrabbiare Rebecca! Oh, sapessi Peppa! È tremenda! Eh, Susi, veramente, è la peggiore, secondo me! Non vi lamentate, va! È stata proprio carina, mamma piga, da averci invitati, vero? Oh, sì, in effetti! E poi, mi sa che ha anche preparato una torta! Oh, stiamo passando veramente una bellissima giornata! Ehi, mamma, guarda! Ma, questa era la voce di Richard! Richard, dove sei? Sono lassù! Oh! Richard, scendi subito, immediatamente da qui! Oh, mamma mia! Ve l'avevo detto che sono proprio tremendo i miei figli! Richard, scendi subito! Ok, mamma! Scendo! Yuhuu! Yuhuu! Anch'io! Yuhuu! Mamma mia! Sono pazzi questi ragazzi! Sono proprio pazzi! Mi ha fatto venire un infarto! Dai ragazzi! Tutti in all'acqua! Arrivo! Yuhuu! Anch'io! Io pure! Eccomi! Yuhuu! Bambini! È pronta la merenda? Dai, uscite fuori! Venite a mangiare! Oh sì! Che bello! La merenda! Non vedo l'ora! Dai ragazzi! Tutti fuori a mangiare! Ciao bambini! Noi andiamo a far merenda! Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like! E ci vediamo nella prossima puntata! Ciao ciao!